Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi voglio parlare di un grandissimo contest che sta facendo Movieland in occasione della nuova apertura di questa nuova area dedicata allo spazio che si chiama ovviamente Space. Ma prima di spiegarvi tutto ciò vi invito a mettere un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella ma soprattutto di andare a seguirmi anche sui miei account Instagram dove ci sono sempre un sacco di cose interessanti nelle stories quando sono dentro i parchi ma anche di andare su farsefan.com e scrivere la newsletter e quindi dovete seguirmi dappertutto dovete seguire anche qua dietro, mi mettete qua dietro e per me va benissimo. Ma cominciamo subito. Movieland ha presentato addirittura l'anno scorso questa novità, si chiamerà Space, sarà ovviamente a tema spazio dovrebbe aprire dal mese di maggio al mese di giugno, non si sanno ancora date precise per l'inaugurazione ma la cosa più interessante è che questo contest dà la possibilità a 50 fortunati di essere ospitati il giorno dell'inaugurazione e provare in anteprima questa attrazione. Per partecipare basta andare sul sito space.caneuaworld.it compilare il modulo con il vostro nome, il vostro cognome, il vostro indirizzo email, da dove venite, quindi la provincia di quello che volete se siete mai stati o meno a Movieland rispondete sì o no, liberamente ci mancherebbe ma la cosa più importante che vi chiedo è di scrivere qua nel box sotto dove vi chiede cosa ti aspetti della novità 2020 in Space scrivere parse and fun. Perché ti chiedo questo? Perché mettiamo il caso fortuito che tu vinca la possibilità di essere tra questi 50 fortunati di provare in anteprima Space, potrò farlo anch'io, potrò farlo insieme ma potrò farlo anch'io io purtroppo a questo contest non posso partecipare, quindi mi tocca venire ospitato praticamente da te che vincerai magari questo contest nel caso peggiore che tu non vinca, non c'è nessun tipo di problema, a tutti i partecipanti di questo contest sarà data la possibilità di entrare ad un prezzo agevolato di 15 euro il giorno, solo esclusivamente il giorno dell'inaugurazione di Space su Space non si sa molto, sarà ovviamente un'attrazione a tema spazio per tutta la famiglia perché Moviland si distingue sempre per queste attrazioni dove tutta la famiglia può tranquillamente fruirne insieme e appassionatamente, quindi vi ripeto, andate su space.canevavordo.it, compilate il form, scrivete in basso parse and fun così magari se vincerai questo contest potremmo andarci insieme io vi saluto qua, vado a mettermi il castro d'astronauta così magari mi preparo già per la gravità zero o qualcosa di simile sì, l'ho detta grossa, va bene, ok? ciao ragazzi, alla prossima ciao